Il primo tempo è orribile della squadra di Allegri doppietta di Giovanni Simeone e autogol di Alexandro a Corsa Pianici su punizione ci sono anche gli infortuni di Bonucci e Dani Alves Esiste, scrive alla Gazzetta dello Sport ancora quella cosa chiamata campionato se si può passare al tritacarne la signora così ridurla a fette in mezz'ora appena allora non tutto è deciso da queste parti la Juventus va via da Genoa con una umiliazione storica non mette in dubbio la leadership solida ma il primo tempo contro il Grifone fa riflettere su cosa accade se si spegne la luce non bastasse i bianconeri rivivono un vecchio incubo un cognome che torna a risuonare macabro Simeone e Giovanni fa ballare Marassi due volte proprio lui figlio di Pablo che scucì mezzo scudetto bianconero con la Lazio nel 2000 dal ciolo al ciolito nuovo idolo di un Genoa che ritrova la sua magia elettrica nella gara dell'anno se 16 anni fa Babbo Simeone portò i biancocelesti secondi e tre dalla Juve stavolta il figlio aiuta il Milan e forse la Roma ad avvicinarsi a quattro Allegri spera solo che il film abbia un finale diverso l'inizio gara è davvero confusionaria con la Juventus al terzo una leggerezza di Bonucci regala campo a Rigoni tiro ribattuto Buffon mette il vestito da Superman ma dopo tre volte pure i supereroi capitano i tappini del ciolito Simeone che apre la prima crepa col vantaggio poi prima della mezz'ora il disastro è completo corner di Lazovic sponda di Burdisso tocco di Rigoni e Alexandro finisce per buttarla dentro sul disperato tentativo di appunto salvare naturalmente poi la formazione di casa continua a spingere spingere tantissimo un primo tempo incredibile solo nella parte finale la Juventus accorcia con un colpo di genio di Pjanic su piazzato all'ottantaduesimo ma non basta una Juventus che capitola in modo incredibile una difesa da incubo Bonucci più grave del previsto Dani Alves invece ottimista l'Azzurro ha rimediato una distrazione muscolare alla coscia sinistra stop di due mesi a quanto pare il brasiliano la frattura del perone sinistro stop di tre mesi anche se lui ha chiarito che è meno grave del previsto Barzaghi era già fermo Chiellini sta recuperando ma non è ancora al meglio Benatia e Rugani sono le colonne del dicembre di fuoco che attende la squadra un capitombolo in attesa scrive la gazzetta dello sport che riporta con i piedi per terra la Juventus al campionato e vede riaprirsi la lotta lo scudetto con Roma-Milan a meno 4 è un pesante K.O. quello 3-1 di Marassi ma Dulcis in fondo oppure amarezza in fondo sono gli infortuni per appunto Dani Alves che dovrà star fermo probabilmente tre mesi dopo aver già perso Barzaghi per due mesi e Bonucci che ha una distrazione ai flessori per il quale si parla di due mesi sostanzialmente tre quarti di difesa tecnicamente titolare in out ricorda un po' qualcosa che è successa già alla Roma in questa prima parte di campionato con tre quarti di difesa out che sta adesso recuperando i K.O. che arrivano tutti insieme per una Juventus che ha decisamente sofferto una Juventus che come riporta il Corriere dello Sport ha preso tre gol nel primo tempo e non succedeva da ben 11 anni è una curiosità una tra le tante curiosità del K.O. di Genoa l'ultima volta accadde a San Siro il 29 ottobre del 2005 contro Milan Sedorf, Kakà e Pirlo i marcatori quindi la doppietta di Simeone e l'autogol di Alexandro hanno un qualcosa ancora più di storico dall'epoca del Milan incredibile appunto delle reti di Sedorf, Kakà e Pirlo non accadeva la Juventus da allora in campionato ha subito soltanto sette sconfitte ma nessuna con tre gol al passivo innanzitutto fa specie e fa davvero rendere conto della forza di questa squadra queste sette sconfitte in tutti questi anni per trovare una Juventus sconfitta con tre gol al passivo bisogna poi tornare indietro al Duminà e 11 3-0 al San Paolo col Napoli e poi l'1-4 in casa del Parma sconfitte davvero col contagocce da parte della Juventus che però adesso deve fare attenzione al calendario Juve e Roma entrambe hanno un calendario di un dicembre di fuoco il Milan invece sembra avere il cammino più agevole ricordando che il Milan non ha la Coppa Europea la Juventus in Champions la Roma in Europa League Bianconeri attesi di Atalanta Toro ha dallo scontro diretto con i giallorossi Torino che tra l'altro ha uno stato di forma decisamente elevato l'Atalanta che è la rivelazione del campionato i giallorossi poi sono lo snodo probabilmente per entrambe le squadre si giocano davvero tutto in tre partite perché la stessa Roma dovrà affrontare adesso in sequenza il derby quindi la partita contro la Lazio poi appunto Milan e Juventus un calendario da qui a Natale incredibile la Juventus parte ovviamente con il più 4 con il calendario complicato con Atalanta e Roma che andranno però ad essere affrontate allo stadium e poi il derby di Torino quindi sostanzialmente tutto nella propria città una condizione che è più o meno discreta fisicamente tranne appunto questi infortuni pesanti in difesa il morale anche ma serve una reazione scrive la Gazzetta per la Roma che ha 29 punti quindi un divario di 4 lunghezze il calendario è davvero difficile all'orizzonte c'è il derby con la Lazio una partita da tripla da Cardiopalma il Minan all'Olimpico e la Juventus allo stadium prima di chiudere col Chievo l'Olimpico e poi la sosta natalizia la condizione è buona quella di Manolassa e Sciarawi sono le uniche defezioni in via di recupero torneranno presto col Pescara è rientrato anche Vermalen dopo la lunga fase della pubalgia Fazio la garanzie il morale è ottimo anche se le crepe difensive si sono viste anche evidentemente contro il Pescara e lo vedremo subito dopo anche il calendario del Milan è di media difficoltà una comoda partita a San Siro contro il Crotone poi la trasferta l'Olimpico contro la Roma e l'Atalanta a San Siro rivelazione prima della partita di Supercoppa contro la Juventus la condizione è ottima il morale è eccellente così come quello della Lazio il cui calendario è difficile ma naturalmente lo snodo principale è quello che arriverà domenica ore 13 col derby torniamo a parlare di Juventus perché Allegri ha tuonato ha detto non ci sono giustificazioni ma una legnata così fa bene ha chiarito che la chiave sia stata l'approccio dei suoi giocatori loro ovvero il Genoa hanno fatto 25 falli noi soltanto 8 quando hai questi numeri 9 volte su 10 perdi la partita ho detto anche io all'arbitro di non fischiarci rigore su Mandzukic se no sai che polemiche anche un po' di sarcasmo la prende Max Allegri certamente fa scalporore fa storia questa sconfitta Juventus che ne ha già incamerate tre e tutte a margine o comunque a corollario delle partite di Champions League non può essere soltanto una indicazione di casualità una legnata salutare ha detto chiaramente Max Allegri e poi torna sull'episodio del fallo da rigore presunto di Ocampos su Mandzukic ho detto all'arbitro che era giusto non fischiarlo perché avremmo riaperto la partita mentre oggi era giusto prende una bella legnata che ci farà bene per il resto della stagione parole importanti che ricordano quelle della scorsa stagione di Buffon dopo un KO pesante contro Sassuolo e forse questa la netta differenza fra Juventus e le altre squadre quando si parla proprio di mentalità per una Juventus che ha sofferto e che dovrà ragionare su un primo tempo davvero da dimenticare lo hanno fatto già i leader da Bonucci a Marchisio Bonucci lo dice chiaramente ci rialzeremo subito Marchisio dice invece impariamo dagli errori difensore bianconero tra l'altro è nato KO come abbiamo detto e al fine primo tempo ha subito questo problema nel flessore alla coscia come anche Dani Alves che andrà lungo ai box il principino vero Marchisio ha chiarito che è una partita da non dimenticare perché può essere da esempio anche arrivano le parole di Benatia con l'Atalanta gara la Juventus senza altro la Juventus non sottovaluterà l'avversario noi con questa notizia ci prendiamo un attimo di pausa torneremo subito dopo con la terza ed ultima parte della nostra segna tra poco con la terza